Salve, sono Clara Matteo, ho una laurea in psicologia preso all'Università Ramoglio di Barcellona. Ho fatto un soggiorno nell'Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica IEFCOS. Il soggiorno è stato positivo sia personalmente che professionalmente. L'accoglienza dai diversi professionisti è stata eccellente e mi ha permesso di osservare e analizzare le sedute e gli interventi da diversi approcci e prospettive. Il soggiorno mi ha permesso di arricchire le mie nozioni di terapia familiare e da seguire con la mia tesi dottorale e creare nuove linee di ricerca. IEFCOS ha una lunga tradizione di accoglienza di studenti stranieri e questo mi ha permesso dal primo momento sentirmi confortevole e ben accolta. Vorrei ringraziare particolarmente il coordinatore dal centro, Maurizio Coletti, per la sua generosità perché senza di lui questa esperienza non sarebbe stata possibile. Raccomando alle persone di vivere questa esperienza pi α und non hanno la sua seguizione e cosa che io senza dubbio la riepiterrei. Mi ha permesso di ac Scotia il centro che erano correcini. Applausi l'ace sulla volle signorio innovatore